E' quello che mi offre l'occhio perché io vengo da una scuola, è vero che crede nella connessorship, però io sono ben lieta di servirmi anche degli strumenti tecnici e tecnologici e gli dico sempre io voglio arrivare alla verità, dopo tutto quello che è possibile che mi serve per capire meglio e per arrivare alla verità. Tutti i mezzi sono buoni, non mi metto in un binario e dico solo quello, il mio metodo e basta. Io dico i metodi sono molteplici secondo anche delle necessità. Grazie mille.